Musica Elezioni provinciali, vince il PD, ma tra gli eletti non mancano le delusioni. Paolo Imparato ha confermato ma con amarezza. Cartolano, Imparato gioisca. Vallo di Diano, ancora neve e gelo, scuole chiuse, centri storici impraticabili e paesi senza acqua. In arrivo una nuova ondata di maltempo. Montesano sulla Marcellana, da oggi con garazze a giovani, 24 ragazzi impegnati per la comunità. Teggiano, ieri la premiazione dei concorsi Tpiacio Presepe e Toto Avvento, promossi dalla parrocchia di San Marco e dal circolo Agli Camminare Insieme. Salernitana, oggi la ripresa dopo la sosta in attesa dei volti nuovi dal mercato. Ben trovati al nostro telegiornale, apriamo con la politica. Si sono tenute ieri le elezioni provinciali con la scelta dei nuovi consiglieri che resteranno in carica per i prossimi due anni e affiancheranno il presidente Canfora. Il Vallo di Diano, seppur a fatica, riesce ad ottenere un suo rappresentante con la conferma del sindaco di Padula, Paolo Imparato. Ieri le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, la scelta quindi del gruppo che affiancherà per i prossimi due anni il presidente della provincia Giuseppe Canfora. Il Vallo di Diano può gioire vedendo riconfermato il suo consigliere. Paolo Imparato riesce infatti ad ottenere un numero sufficiente di preferenze da consentirgli di restare in carica anche per i prossimi due anni. Un ottimo risultato se si pensa che l'elezione dei consiglieri provinciali avviene con sistema ponderato in base al numero di abitanti per comune amministrato. Resta comunque l'amaro in bocca per un risultato, quello ottenuto dal sindaco di Padula Imparato, che avrebbe potuto essere sicuramente più importante e che invece ha messo seriamente a rischio la sua riconferma, avendo ottenuto un punteggio di 2.594 preferenze rispetto alle 3.012 delle passate elezioni. A confermare Paolo Imparato, è stato l'ottimo risultato del Partito Democratico che ha fatto scattare così l'ottavo seggio rispetto ai sette della passata tornata elettorale. Un risultato che salva il Vallo di Diano, ma che ancora una volta dimostra come il territorio non riesca ad essere compatto e ad avere come interesse prioritario il bene comune. Sembra infatti che siano venuti a mancare proprio i voti dei comuni più popolosi, mentre il sostegno ad Imparato è arrivato da amministrazioni di altro colore politico che pare abbiano riconosciuto l'importanza di essere uniti a tutela del proprio territorio. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio Provinciale, che resterà in carica fino al 2018, è così formato. Primo partito, il PD con otto seggi, con la carica di consigliere assegnata a Luca Cerratani, primo eletto e nome sostenuto da Franco Alfieri. Secondo, il deluso Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, che pare non sia stato sostenuto in pieno dalla sua maggioranza a Salerno. Carmelo Stanzioli, Antonio Roscigno, uscenti di confermati. Vincenzo Servalli, Antonio Giuliano, Michele Strianese e, come detto, per un soffio il rappresentante valdianese Paolo Imparato. Entrano poi in consiglio per la lista di Forza Italia Gregorio Fiscina, per la lista davvero di centro Massimo Cariello, Marcello Ametrano, Pasquale Mauri, per Fratelli d'Italia Giuseppe Fabbricatore e Angelo Cappelli, per la lista Psi Pasquale Sorrentino, per la lista candidati per la provincia di Salerno Cosimo Ferraioli. Prossimo impegno, la distribuzione delle deleghe da parte del Presidente Giuseppe Canfora. E abbiamo raccolto le parole del sindaco di Padula, Paolo Imparato, che seppur soddisfatto dell'esito delle elezioni, non nasconde la sua delusione e la sua amarezza per il mancato supporto da parte di alcuni amministratori valdianesi. È stata una nottata lunga e sofferta. È una rielezione. Noi abbiamo rischiato di perdere il rappresentante in provincia del Vallo di Piano per alcune leggerezze di alcuni amministratori, perché sapete bene che chi vota sono sindaci e amministratori. Ci sono state amministrazioni che veramente sono scese in campo al 100%, ci sono altre che si sono difilate. Abbiamo veramente rischiato di perdere il rappresentante nel Vallo di Piano. Questa è una leggerezza che non ci possiamo consentire, che non ci potevamo consentire. Per fortuna io l'avevo già ipotizzato e immaginato e naturalmente frutto del lavoro dei due anni fuori dal Vallo di Piano sono riuscito ad avere degli attestati di stima, anche un voto pesantissimo nell'agronocerino Sarnese. Ci sono stati per esempio il sindaco di Sassano con l'amministrazione di Sassano che mi ha votato in blocco, c'è stato Montesano che mi ha dato una grossa mano, Casalbuono, San Ciacomo. Diciamo che qualcuno è venuto meno, sono molto deluso del risultato di Sala Consilina e di De Giano, però l'importante è che ce l'abbiamo fatto e che abbiamo un rappresentante in Consiglio Provinciale. Naturalmente io ringrazio tutti, la fase elettorale è finita, continuerò a lavorare per il territorio, non lo so se mi sarà confermata la delega alla viabilità, quindi al di là di quello che è stato il risultato elettorale, soffertissimo, io sono l'ultimo degli eletti e sono dentro con una differenza veramente risicatissima di 40-50 voti, però oramai è acqua passata, la mia disponibilità è totale per tutto, tutto quello che potrò fare per i comuni della provincia di Salerno, la massima disponibilità e il massimo impegno. Io avrei voluto che il Valle di Dianna fosse uscito compatto sul mio nome al di là, anche perché non c'erano grossi candidati, quello che non riesco a capire, come mai si è cercato di votare nella stessa lista gente che è fuori dal territorio e non dare un segnale forte, perché poi con qualche voto in più invece di essere ultimo poteva essere quarto o quinto, però diciamo è andata bene, andiamo avanti. Soddisfatto dell'esito del voto per il rinnovo del Consiglio provinciale è Domenico Cartolano, che ai nostri microfoni parla della conferma del PD come primo partito in provincia, inoltre parla anche della riconferma di Paolo Imparato alla carica di consigliere provinciale che a suo dire deve comunque e sempre gioire. È sicuro che farà valere le sue ragioni e le ragioni del territorio anche senza il partito. Il PD si conferma il primo partito della provincia di Salerno migliorando il risultato rispetto a due anni fa ampliando di un seggio, quindi da 7 ad 8 e grazie a questo il Vallo di Diano ha il suo consigliere provinciale in Paolo Imparato, al quale faccio i miei migliori auguri, di buon lavoro. Questo è un premio per la sua testardaggine, la sua determinazione. Tutti dicono che Paolo ha un carattere non facile e questo in parte è vero, ma dimostra veramente di saper fare politica e quindi abbiamo la fortuna come territorio di avere ancora una volta il consigliere provinciale grazie al comprensorio, grazie a una rete di rapporti che lui è stato bravo a creare, ma grazie al Partito Democratico. Paolo Imparato ha combattuto contro un esercito, cioè tutti i sindaci dell'agro, perché con questo sistema assurdo del voto ponderato i comuni come Nocera, Salerno, Battipaglia, l'agro noceno sarnese, avevano un valore tre volte superiore a quello del Vallo di Diano. Allora io dico, non so se il Vallo di Diano, non ho visto con esattezza i voti precisi, comuni per comuni, perché è anche difficile. Forse il Vallo poteva rispondere meglio, ma che cosa cambiava? Che da ottavo, l'importante è essere eletti, che non sei ottavo, sei sesto, sei quinto, sei quarto, l'importante è che il Vallo di Diano è rappresentato. Senza il Vallo di Diano Paolo Imparato non sarebbe stato eletto, è matematico, perché è stato eletto per 30-40 voti, quindi che poi qualche amministrazione ha votato, si sono divisi, questo capita sempre. Poi Paolo non ha bisogno di essere sostenuto, la voce di Paolo Imparato è talmente forte, è tanta e tale che si sente fino a Salerno. Per come è la legge, e spero che cambi presto, ben che è fatta dal mio partito, ma è una delle peggiori leggi della storia della Repubblica, di questo voto ponderato. Quindi mi auguro che, visto che il referendum non è passato e quindi le province sono istituzionalizzate, quindi si torni a votare, si dia mandato all'elettore, al cittadino, ma Paolo con la sua voce, come giustamente hai detto tu, farà sicuramente sentire la voce del territorio, con o senza il partito, cioè il partito sarà al suo fianco, ma conoscendo Paolo, lui è un caterpillar, quindi va avanti anche senza il partito. Paolo deve gioire, perché ha avuto un risultato eccezionale, grazie a lui, grazie agli amici che lo hanno sostenuto, e ai suoi colleghi amministratori, grazie alla rete, come giustamente hai detto tu. Allora Paolo adesso deve solo gioire, perché è un risultato straordinario, per lui innanzitutto, per il comune di Padula, ma soprattutto per il Vallo di Diano, e per il Partito Democarico del Vallo di Diano. Il sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta, questa mattina dal suo profilo Facebook, ha lanciato un allarme, allertando i suoi concittadini su possibili truffe. Pare infatti, che una persona, dallo stesso sindaco individuata, si aggirava nel comune, proponendo contratti con telecom e gritti energia, privi però di regolare autorizzazione da parte degli enti, a nome del quale si presentavano alle porte dei cittadini. Il sindaco Accetta, dopo aver individuato le persone, ha chiesto agli stessi di allontanarsi dal territorio, e ha allertato la compagnia dei carabinieri. Casi simili si sono registrati anche in altri comuni del Vallo di Diano. Andiamo avanti. Solo una piccola tregua, ma è prevista una nuova ondata di maltempo, con freddo, gelo e neve nel Vallo di Diano. Intanto oggi, scuole chiuse e centri storici ancora irraggiungibili, alcuni paesi addirittura senza acqua. Facciamo il punto della situazione nel prossimo servizio. Il freddo, il gelo e la neve continuano a creare disagi nel Vallo di Diano. Se le arterie principali sono praticabili e garantiscono il normale traffico, diversa la situazione per quanto riguarda i centri storici, dove le strade strette e la copiosa neve caduta nei giorni scorsi ha reso impossibile l'intervento dei mezzi spazzaneve, creando con le gelate un vero e proprio ostacolo naturale per i cittadini. Centri storici dove spesso abitano anziani e, in alcuni casi, per soccorrere, si è reso necessario l'intervento dei volontari della protezione civile che hanno operato senza difficoltà. Le gelate hanno provocato anche disagi per l'approvvigionamento di acqua alle abitazioni. Tubature congelate e acqua ghiacciata con alcuni paesi che sono in piena emergenza, come a Stanza, dove da due giorni alcune abitazioni del centro storico sono senza acqua. Ma nei diversi comuni del Vallo di Diano non sono mancati casi di tubature scoppiate. Vista la situazione precaria, diversi sindaci del Vallo hanno disposto per oggi la chiusura delle scuole per ogni ordine e grado. Solo due eccezioni, i comuni di San Pietro Altanagro e Casalbuono, dove l'attività scolastica è ripresa con regolarità oggi, dopo la lunga sosta per le festività natalizie. Una situazione critica che sarà acuita nelle prossime ore, visto che gli esperti hanno previsto condizioni meteorologiche complicate nei prossimi giorni, tant'è che la protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo per neve gelate fino a mercoledì, con precipitazioni che insisteranno su tutto il territorio, soprattutto nelle zone interne e montuose. A Montesano sulla Marcellana inizia oggi il progetto promosso dall'amministrazione comunale nell'ambito del programma Garanzia Giovani, che vede coinvolti ben 24 ragazzi. Vediamo. A Montesano sulla Marcellana inizia oggi il progetto promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi e dall'assessore alle politiche giovanili Rosanna Pepe attraverso il programma Garanzia Giovani, che vede coinvolti ben 24 ragazzi, che saranno impegnati a favore della comunità e l'iniziativa si svilupperà su tematiche ambientali, riqualificazione urbana, patrimonio comunale, progettualità in materia di igiene urbana, educazione ambientale, pianificazione e comunicazione. Questo progetto, dichiara l'assessore Pepe, rappresenta una grande opportunità per i giovani di Montesano, che erano iscritti al programma di Garanzia Giovani e che hanno superato la selezione, come indicato dalle linee guida della Regione Campania. Sono molto soddisfatta perché è un progetto molto ampio, rilevante e che sono certa rappresenterà per i giovani del nostro territorio un'opportunità di impegno per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente che circonda splendidamente il nostro paese. Sulla stessa linea è il sindaco Rinaldi. Credo che mai si sia avuto un progetto rivolto ai giovani così ampio e affermato. Ben 24 giovani di Montesano svolgeranno attività per la loro comunità per sei mesi, arricchiranno il loro curriculum, consentiranno anche all'istituzione comune di essere più presenti sul territorio. Continuano le nostre iniziative per il mondo giovanile che, conclude Rinaldi, rappresenta una priorità politica e culturale per la mia maggioranza consigliare. I 24 giovani fin da stamattina saranno impegnati nella realizzazione del progetto in collaborazione con i loro responsabili e l'amministrazione comunale. Il ministro dei beni delle attività culturale e del turismo, Dario Franceschini, ha presentato tutti i numeri dei musei italiani relativi all'anno 2016. La Campania risulta stabilmente al secondo posto nella classifica delle regioni con maggior numero di visitatori e la Certosa di San Lorenzo in particolare ha registrato un incremento di circa 8 mila visitatori. Il ministro dei beni dell'attività culturale e del turismo, Dario Franceschini, ha presentato i dati del 2016 relativi ai musei italiani, che, dichiara lo stesso ministro, stanno vivendo un nuovo record. I 44,5 milioni di ingressi nei luoghi della cultura statali hanno portato in cassi per oltre 172 milioni di euro, con un incremento del 4% di visitatori e del 12% di introiti rispetto al 2015. Queste risorse preziose torneranno interamente ai musei, secondo un sistema che premia le migliori gestioni e al contempo garantisce le realtà piccole. Si tratta del terzo anno consecutivo di crescita per i musei statali, che da 38 milioni di biglietti nel 2013 sono passati ai 44,5 nel 2016. In un triennio, 6 milioni di visitatori in più, con un incremento del 15%, con un aumento degli incassi pari a 45 milioni. Una crescita, conclude Franceschini, nella quale il Sud gioca un ruolo importante, con la Campania anche nel 2016 stabilmente al secondo posto nella classifica delle regioni con il maggior numero di visitatori, grazie agli 8 milioni di ingressi registrati, con un aumento del 14,2% sul 2015. Risulta quindi tra le regioni con il tasso di crescita più elevato. Nel Vallo di Diano in particolare, la Certosa di San Lorenzo a Padula è passata da 72.936 visitatori nel 2015 a 80.240 nel 2016, registrando un incremento di circa 8 mila accessi. Dati incoraggianti se si considera che il monumento certosino sta attraversando una fase molto particolare, tra l'assenza di autonomia, imbrigliata com'è nel polo museale della Campania, e un direttore part-time costretto a dividersi tra Padula e il Museo Orcologico Nazionale della Valle del Sarno. Per essere la Certosa più grande d'Italia, sembra essere davvero troppo poco considerata dal Ministero dei Beni Culturali e sebbene si registri un trend positivo in termini di visitatori, i problemi che vive sono sotto gli occhi di tutti. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio. Si è tenuta ieri mattina la premiazione dei concorsi indetti per questo Natale dalla parrocchia di San Marco a Teggiano e dal Circolo Agli Camminare Insieme. Dopo la Santa Messa sono stati consegnati i premi per il presepe più bello, per il concorso Te piace o presepe, e per i bambini che hanno risposto meglio al concorso Toto a Vento. Vediamo. Doveva tenersi lo scorso 6 gennaio, ma il maltempo è freddo. Il concorso ha imposto un rinvio della premiazione dei concorsi indetti per questo Natale dalla parrocchia di San Marco a Teggiano e dal Circolo Agli Camminare Insieme. La consegna dei riconoscimenti e la premiazione è stata quindi posticipata ieri mattina, domenica 8 gennaio, subito dopo la Santa Messa celebrata da Don Vincenzo Gallo. Presso la Chiesa di San Marco la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso Te piace o presepe è di un altro concorso indetto dagli organizzatori degli eventi natalizi con i premi assegnati ai vincitori del concorso Toto a Vento. Difficile la scelta della giuria, viste le belle opere presentate per la valutazione degli esperti in riferimento al concorso Te piace o presepe, che ha visto il primo posto assegnato a Paolo Cimino, con il suo presepe che è stato scelto come il più bello, visto anche il grande lavoro richiesto per realizzarlo. Un grande impegno richiesto anche per la realizzazione del presepe di Marco Mea, che si è assicurato il secondo premio. Il terzo posto è stato invece assegnato a Michelina De Paola, ma il suo presepe è stato comunque valutato per una grande attenzione nella cura dei dettagli e come, anche per gli altri due, l'ottima rappresentazione dell'evento della nascita del Bambin Gesù e del contesto storico. Tra i premiati anche l'opera realizzata da un giovanissimo tegianese, Antonio Pietropiano, con il presepe realizzato, che avrà sicuramente richiesto, come per gli altri, un grande impiego di tempo e di pazienza. Oltre alla premiazione del concorso Te piace o presepe, a cura del circolo ACLI Camminare Insieme, ieri mattina sono anche stati premiati i bambini partecipanti al concorso Toto Avvento. Nelle quattro domeniche di Avvento, Don Vincenzo Gallo ha consegnato ai piccoli della parrocchia dei questionari con risposta multipla, contarsegnata da 1X2. Le domande erano legate al tema religioso ed in particolare alla natività. I bambini, che meglio hanno risposto alle domande, sono stati ieri mattina premiati dallo stesso Don Vincenzo. A vincere i premi in palio sono state quattro bambine, Antonietta Manfredonia, Raffaella Accetta, Martina Carrano e Fatima Collazzo. E nonostante il freddo, sabato scorso presso il Teatro Amabile di Sant'Arsenio, si è tenuta regolarmente la quinta serata del Festival Teatrale Sant'Arsenese, con la presentazione della commedia Sottosotta Umma Um dei ragazzi della compagnia di Sant'Arsenio, ieri, oggi e domani. Nonostante il freddo, tantissime persone non hanno voluto perdersi l'appuntamento teatrale promosso dai ragazzi dell'Associazione Sant'Arsenio, ieri, oggi e domani. Sabato scorso, infatti, si è regolarmente svolta la rappresentazione teatrale della commedia Sottosotta Umma Um, scritta da Raffaele Caglianiello per la regia di Luigi Biscotti e che ha visto in scena i ragazzi dell'Associazione organizzatrice di questa quinta edizione del Festival Teatrale Sant'Arsenese. Lo spettacolo che ha allietato il quinto appuntamento della rassegna ha visto in scena i giovanissimi attori della compagnia. Ad interpretare la commedia Sottosotta Umma Um sono stati Giussi Forte, Antonio Amabile, Nicola Morena, Emanuela Gangone, Gerardo Pistone, Lusi Amabile, Rosanna Giordano, Silvia Di Giulio, Francesca Mele, Gino Laurino, Mario D'Amato, Luigi Forte e Alfonso Scoppetta. Scroscianti applausi e tanto divertimento per i temerari che hanno raggiunto il Teatro Amabile a Sant'Arsenio, curiosi di assistere alla commedia teatrale che non ha sicuramente deluso le aspettative. Il consenso raccolto ha convinto gli artisti a riproporre l'opera nelle prossime settimane a rassegna conclusa. Intanto si prosegue con il festival che si conclude sabato prossimo con la commedia sempre proposta dai ragazzi della compagnia Sant'Arsenio ieri, oggi e domani dal titolo Questa volta te lo dico che ti amo. Opera in due atti scritta da Luca Franco. Lo spettacolo che regalerà ancora una volta tanto divertimento agli spettatori andrà in scena sabato 14 gennaio sempre alle ore 21 e sempre presso il Teatro Amabile di Sant'Arsenio. E passiamo allo sport. Archiviata la sosta natalizia, la Salernitana riprende oggi la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro lo Spezia in attesa di novità e volti nuovi dal mercato. Chiuso il girone d'andata e la lunga pausa natalizia, la Salernitana agli ordini di mister Bollini riprende oggi la marcia di avvicinamento alla sfida in programma domenica 22 alle 17.30 allo Stadio Arechi contro lo Spezia. Contro i Liguri non ci sarà la Verone che passa all'Avellino con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza degli Irpini. Questo al momento è l'unica operazione di certa mentre si continua a fare chiacchiere, sondare terreno e giocatori. In attesa di liberare schiavi servono offerte che non sono ancora arrivate e con Franco sempre più ai marricini c'è il Livorno. Il DS Fabiani prova a rinforzare la difesa. Per gli esterni i nomi sono quelli di Faraoni, ex Inter e Udinese, Giacoponi, proposto lo scambio con Zido e Sini, entrambi in scadenza di contratto con Lentella. La suggestione resta l'ex Napoli e Bologna, Garix, esterno di difesa appena svincolatosi dal Darmstadt, ma Fabiani attende un rapporto sullo giocatore austriaco. Per la difesa gli incaggi frenano le piste che portano a Blanchard del Carpi, Terranova del Sassuolo e di Cesare del Bari. Complicata la pista Eli del Milan, il quale potrebbe arrivare a Salerno solo con una compartecipazione del club rosso-nero all'ingaggio. Fabiani ha messo nel menino due giocatori della Ternala, il centrale difensivo Meccariello e il centrocampista Palumbo, ma i rosso-verdi vogliono solo cash. Soldi che potrebbero arrivare dalla sessione di Donna Rumma, per la quale Lottito chiede 1,5 milioni di euro e sembra difficile l'ipotesi di scambio con De Luca proposto dal Bari. A centrocampo, in attesa di piazzare Ronaldo, si volta la pista Moretti, della Tina, e De Francesco, della Regina, che hanno più appeal dell'aziale Minala, che potrebbe percorrere la 1 direzione Salerno insieme al terzino Vinicius. Per la porta su Gomisse è entrato prepotente il Cesena e se sfumasse, Fabiani andrebbe a prendere Vigorito del Vicenza, con il quale c'è già un accordo. Potrebbe partire anche Caccavalo, direzione Venezia o Juve Stabia. Infine, se in classifica la Salernitana non certo brilla, dal punto di vista delle presenze allo stadio, la società può gioire. Infatti, nel girone d'andata alla Rechi, c'è stata la media di 11.371 spettatori, quarto dato migliore di tutta la Serie B, dietro solo a Bari, Verona e Cesena. La sfida salernitana a Verona, con 19.709 spettatori, però ha il record di gara con il maggior numero di spettatori tra tutte le gare giocate nel girone d'andata della Serie Cadetta. Con lo sport termina il nostro telegiornale. Vi ringrazio di averci seguiti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.